20 Anakin sta trasmettendo fortnite Hai visto? Ese Twitch? Si Mi sarei fatto la donna? Ahia Beh, guarda, ho finito l'ultima torcetta Da Will, la, 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 la di tovore C'è una squadra Guarda Uno l'ho atterrato Grande, grande Si è atterrato uno Ok È un po' di vita Sono lì? È per la corsa Andate Si Oh, chi è quest'altro? Ma abbassa il volume C'è uno Eh, l'ho fatto apposta Avete trovato i costi? Io ho incendiato una calla È qui con quel Il pt Ah, qua, qua Minutio È normale che ci sono Io che vi ricordo Dov'è? Di altre pelle Veramente Di solito è qui in mezzo a queste piante L'ho trovato, ho fatto qui Ma cosa devo trovare? L'alberello Grut C'è un alberello che si muove Grut piccolo Mini Grut Ah, è qui Dove? Ah, eccolo Sì Oh, lì Grazie Vieni Ti tengo d'occhio, Anna Che cazzo c'è andrà Da nulla Da nulla ti tengo Ah, lo stai guardando su tu Esatto Che così almeno Quello che l'ho Ah, sì Allora, tutti Di miei amici Guardavano su Twitch Dei pro Tipo E provavano ci atti assieme In base a molte volte Alla mappa Dove era Li ha beccati E andavano lì Li andavano Ovviamente Li ha collegati Ma cosa dici? Sì, sì Dove è? Ti metti su qui Ti guarda di fu Proviato Mette Un'oro Per un'altro Sì, anche Sto anche Uno che seguivo Prima di buttarsi Spegneva il collegamento Lo riaccendeva dopo Sennò la gente Era uno odiato Sennò la gente Andava sempre lì C'era di ammazzarlo Madagno Che coglione Che coglione Che coglione Eh, ciò Felice Elicottero Due elicotteri Minca veramente Oh, sono scesi Proprio qui Eh, ci hanno visto Oh, raga Collame Tranquilli Tranquilli duri Dove sei Dove sei Tranquilli Io sono qui Su un'età Ok E loro dove sono? Sono qui Ah, devi Arrivano Un ciclo di percanno Qui super Oh, di super Oh, di super Oh, no No, raga No, raga No, raga Stai totalmente No, 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 no sono muerto! sono muerto pure io! oh oh bella te io bella rega la mitano salvami la mia scheda si prendi la scheda capitan bravo rega vedi uno arriva la tua testa al vero via oh qua ci sono i poteri eh se volete no li ho fatti io qua 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 no porca tre andiamo andiamo in safe fondamentale